Per fare la lumera di noto occorreranno farina 00, semola di grano duro, acqua, olio, miele, lievito e sale. Per la farcitura invece occorreranno salsa di pomodoro, formaggio ragusano, basilico e olio extravergine d'oliva. Iniziamo pesando le farine. Ci occorreranno 300 g di semola di rimacinato di grano duro e 200 g di farina 00. La farina è pesata, intanto aggiungo in planetaria l'acqua con il lievito e il miele. Faccio andare un pochino, poi aggiungerò la farina, l'olio e quindi il sale. Aspettiamo che si incordi bene e quindi aggiungeremo il sale. Bene, ci siamo. È un impasto morbido, ma non appiccicoso, vedete? Quindi lo lavoro ancora un po', lo pirliamo, come dicono quelli bravi. Che mi dite, vi piace il milanese? Io parlerò sempre con le vocali aperte, siciliana. Questa la metteremo a lievitare, lo facciamo riposare per un paio d'ore. Chiun lievita meglio è. E noi ci vediamo quindi con l'impasto lievitato. Vado. Tadam! Guardate che bello! Molto bello, molto idratato, molto morbido. Allora, mettiamo un po' di semola sul piano e dividiamo l'impasto in quattro. Voilà. Quindi lo dividiamo in quattro, come vi ho detto. Adesso vi faccio delle palline, praticamente, così anche quando stenderemo verrà una forma rotonda. E stenderemo con un mattarello. La lumera è un pezzo, diciamo, della rosticceria appunto di noto. A metà tra una pizza e una focaccia, perché è sia aperta, ma ha un bel bordo. Perché poi, vedrete, verrà richiuso il bordo su se stesso e rimarrà soltanto il centro scoperto. E la cosa più carina che vi voglio dire è che questa focaccia, questa pizza, questa lumera, è molto simile sia nella stesura, perché faremo una sfoglia sottile, sia nel condimento comodoro e ragusano, alla scaccia ragusana. Stendiamo l'impasto con un mattarello. In modo sottile, lo facciamo riposare una ventina di minuti in una teglia che abbiamo ricoperto di carta forno. Quindi stendola prima. E' abbastanza sottile, quindi lo metto a riposare in teglia. Per sicurezza mettiamo anche un po' di semola così sparsa sulla carta forno. Così siamo sicuri e mettiamo il nostro velo di impasto a riposare. Qui ce ne entreranno due, un po' anche strettine, quindi magari prendete più teglie per farle levitare. E tra 20 minuti vedremo come sono diventate. Metto queste a riposare, prenderò un'altra teglia per poggiare le altre perché sono un po' più grandi e tra un po' vedremo il risultato finale. Sono qui le mie lumere, hanno lievitato. Le lascio in teglia perché tanto verranno richiuse, quindi lo spazio si ridurrà. E le condisco con salsa di pomodoro. Ci lasciamo un po' di bordo. Olio. Un po' di sale. E il ragusano. Metto il ragusano che io prima chiamavo caciocavallo ragusano e invece il grande, mitico, unico, celeberrimo, fantastico chef Pino Cuttaia che mi ha dato l'onore di cucinare con me nelle puntate della Sicily Edition che abbiamo visto quest'estate mi ha detto che si chiama ragusano perché è proprio un prodotto DOP. Quindi proprio ragusano, non sbagliamo perché a queste cose noi ci teniamo. Faccio un quadrato di ragusano e vado a chiudere i bordi. Ok, andiamo all'altra. Perché si chiama lumera? Forse perché appunto il ripiegare i bordi fa sì che sembra quasi il quadrante di una lanterna greco-romana. Chiudiamo anche questa. Cospargo con un filo d'olio anche sull'impasto e queste sono pronte per andare in forno. 200 gradi per 15-20 minuti. Adesso che le ho fatte vi confesso che era la prima volta che io facevo le lumere le avevo mangiate a Noto e sono molto felice del risultato. Le abbelliamo con un po' di basilico. Siamo pronti per presentarle. Guardate che belle! Mi sembra proprio la classica ricetta mediterranea dove i colori sono il bianco, il rosso e il verde. E quindi con molto onore, con molto orgoglio spero di aver rispettato la tradizione di Noto. provo ad alzare il mio tagliere. Voilà! E con le lumere, signore e signori, Noto e tutta la Sicilia e tutta l'Italia in virtù dei nostri colori, sono a tavola. Per fare la lumera, ho sciolto il lievito nell'acqua con il miele. Quindi ho aggiunto le farine, l'olio e il sale. Una volta pronto l'impasto, l'ho messo a riposare per un paio d'ore fino al raddoppio. Ho quindi diviso l'impasto lievitato in quattro porzioni. L'ho steso con il mattarello e lasciato riposare per una ventina di minuti su una teglia. Ho infine condito le lumere con pomodoro, ragusano e olio extravergine d'oliva. E infornato per 15-20 minuti a 200 gradi. Ho servito con foglie di basilico fresco.